bisogna stare più o meno alla stessa percentuale dei due laser perché non ha senso averne uno al 90 e uno al 10 si ma poi ti sposti uno si ritrova sempre davanti cioè uno deve stare dietro a fare dps quello che uno che ha il laser prende aggro ma questa è la regola come io all'inizio come inizio laser aggro così si fa gli altri dietro vai e jack ha venuto nella parte sbagliata perché jacko vieni prendi aggro bomba c'è chi non ho fatto 60 arriva 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 c'è già prendi aggro carica quando carica purtroppo ci rovina la festa che dobbiamo riposizionarci demo nel prossimo ok prendilo ok prendi l'aggro aggro del boss daemon prenditi aggro c'è chi non ho fatto aggro aggro dammelo daemon vieni qua prendo aggro andate dietro prossimo jacko quando chiamo vieni jacko vieni jacko vieni jacko mob l'avevo fermi crepo mi restate avevo l'azzurro prima se l'è stato chiamato c'ho l'azzurro io però ti resto e dopo me lo ridai a me l'azzurro un'altra volta e dopo ti voglio prendere il viola voglio prendere il viola no no daemon daemon stai vicino a me che sarai tu a prendere l'azzurro ti vedo senza punizione e gian viola me adesso è il momento dell'ulti tipo no che ce l'hai pulito cos'è ecco deve andare a prendere ma cambia come a prendere l'azzurro ci sono daemon va e viene a prendere il viola stai vicino al boss sei laser 50 ok cambio viola cambio viola ho fatto il cecchino come siete messi quei cambi devi andare a prendere il blu carica di razzurro vieni qua ma non riesco a cambiare di vieni bassima arrivo ok gian prendi viola 50 ve lo agro fate danno che lo finiamo ve lo agro fate danno che lo finiamo dai dai col danno dai col danno dai col danno dai 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 mob 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 bravi così si fa il cecco è morto no si è morto allora daemon cosa mi dici a vedere streaming era più facile vero sì ma più che non ci rimango sempre senza munizioni i mob e te li troppano ogni tanto corri verso i mob morti mi facciamo inizioni dappertutto ora imparato quando c'è il blu mi vado a fare le munizioni bravo la cassa c'è cassa da prendere adesso te lo dico un attimo mi sembrava di no almeno io non l'avevo vista martedì è sbagliato tanto mi ha droppato anche il mitraglione del ball lo metto che c'è più range non può compensare lo stoner perché non arriverai mai a 150 colpi no però diciamo lo stoner io ce l'ho 226 questo qua è 256 puoi usarlo ma non dai boss perché tipo nel quantistico no ma neanche dal gargole perché è importante avere 150 colpi perché poi capirai perché anche se a meno danno i 150 colpi servono tutti perché tipo dal quantistico facciamo il quantistico adesso dal quantistico avrai un lasso di tempo per far danno non è non hai tempo per ricaricare è meglio avere 150 colpi che fanno meno danno piuttosto che 100 che fanno più danno perché se sommi la quantità di danno dei proiettili 150 colpi faranno comunque più danno di quello da 100 bene quando vi siete avete finito di godere sul drop vi aspetta in macchina quindi cassa non ce n'è cassa non ce n'è sono andato a vedere forse c'è un altro punto di spawn sopra da vedere aspetta perché ce n'era uno lì e forse un altro punto di spawn ma comunque il mio qui perché ballonare il boss ma purpa no qua e gli scafogole non ne avevo viste qua no mi sa che non c'è non c'è qua non c'è quella nel sotterraneo dopo ma non so se ci arriviamo no no non c'è qua c'è capite adesso fare una roba del genere in matchmaking che cosa vuol dire infatti ci vuole quello che lì possibile impossibile gioco sali poi fai quello che vuoi l'importante che sali sali qua sali dove si guida non solo mi dà lei in rosso non solo non c'è chi ti posti sali qua sali dove si guida no me lo dai me lo dai rosso un altro che si è buggato coi mezzi sì